Questa bussola è fantastica! Possiamo trovare rapidamente tutti i frammenti! Che succede? Prendiamo il frammento. Oh, intendete? Questo frammento? Oh, vedo che sei andato subito, dritto al punto. Vero, Ikor? Non si è certo tirato intorno. A volte non capisco chi detesto di più. I Darkan oppure Eron? Gormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Gormiti! Gormiti!